Oggi siamo soddisfatti che il lavoro svolto in questi mesi dai suoi frutti questa è una tribuna che ospita in condizioni di sicurezza 50 disabili può sembrare una cosa scontata ma abbiamo dovuto combattere con la burocrazia la buona volontà aiuta e questo è il risultato un grazie all'assessore Diodati qui al mio fianco e a tutti coloro i quali della struttura hanno contribuito a questa realizzazione Sono stati tagliati dei posti che erano posti a pagamento di questo stadio perché avete fortemente voluto questo settore per i disabili, Sebastiano? Certamente, già dall'anno della Serie A abbiamo fatto dei lavori era in programma questa realizzazione di questa parte per i diversamente abili ci è voluto un po' di tempo però è stato fatto come si deve cercando di dare spazio ad altri ragazzi che diversamente non potevano venire quindi sicuramente una cosa positiva adesso al di là di qualche posto perso che non succede assolutamente nulla